Fai la cosa buona, Feneal Will, filea CGL, mobilitazione sabato a Palermo. Mobilitazione nazionale di filea CGL, Feneal Will, in programma sabato prossimo in diverse piazze d'Italia, dallo slogan Fai la cosa buona, anche le organizzazioni sindacali sracusane, con in testa i rispettivi segretari, Salvo Carnevale e Saveria Corallo, saranno presenti con consistenti delegazioni al corteo in programma a Palermo a partire dalle 10. Diversi temi trattati, dall'ambienta e bonus edilizzi, dalla sicurezza al lavoro per un settore, quello dell'edilizia, messo ripetutamente in ginocchio da politica sbagliata, detta di filea CGL, Feneal Will, e lo ribadiranno sabato in occasione del Comizio Palermitano per una mobilitazione che sarà caratterizzata anche da alcuni momenti di intrattenimento, proprio per fare in modo che questo messaggio sia totale e non solo rivolto al settore delle costruzioni. I provvedimenti del Governo sui bonus edilizzi e il codice degli appalti, dicono Carnevale e Corallo, vanno contro il lavoro, l'ambiente e la sicurezza. Per noi la strada possibile è quella dei bonus, concessione del credito solo a famiglie meno abbienti, tanto più che stiamo puntando sulla necessità non che questo beneficio venga tolto, ma esteso a cantieri, per le periferie e le case popolari. E' quel senso della iniziativa nelle periferie, simbolo della dimenticanza della politica. E' chiaro che l'obiettivo è quello che si è dato all'Europa con un territorio sempre più green entro il 2035, ma per farlo non è possibile toccare le tasche di chi non può permettersi determinati investimenti. E poi una tutela maggiore del lavoro e della sicurezza, in quanto siamo per il rispetto del contratto nazionale e delle dire, soldi pubblici solo a chi lo rispetta. E poi una risposta alla crisi strisciante che potrebbe diventare dirompente nelle prossime settimane. Oggi ci sono molte aziende che tramite il blocco dei crediti non si possono permettere di assumere lavoratori e per questo siamo già da tempo dentro uno scenario fatto di rateizzazione di posizioni debitori e richiesta di casse integrazioni. E in questo modo molte persone verranno caricate sul sistema sociale pubblico che andrà in sofferenza. Non tutti sanno purtroppo che gran parte del PIL in Italia arriva dall'edilizia. Sono studi nazionali a metterlo in evidenza, non certo noi. E quando si penalizza questo settore si mette in ginocchio l'Italia stessa. Vorremmo insomma far comprendere che questa non è una mobilitazione del settore, ma un movimento che parla al futuro del Paese stesso.